Buongiorno, hanno finito il suo con il vitto. Che? Pasto, colazione, mangiare. Ma che ne so io? Non è che posso sapere sempre tutto, eh? I don't know. Yeah. Oh, ma non l'avevi smesso? Ecco, sono accendere. No, sono accendere. Dori. Sì, brava, sei bene, fumerica, docente, sei un salto? Infatti io m'attico la gomma. C'è una gomma, mi fa fumare se non esageri. Senti, ma non sarai che hai iniziato a fumare per colpa della nuova caposala, no? No, sì, cioè non lo so, è una serie di cose, certo? Comunque è forte, eh? Sì. Ci ha messo due ore per cercare un idraulico. Noi lo scorso mese ci abbiamo messo una settimana, non so se ti ricordi. Basta fumare, ciao. Ciao, 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 ciao! Ciao. Ciao, 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 ciao!